Buongiorno! Buongiorno! Questa mattina l'argomento è le cattive figure. Sentite la voce. La signora Sofia. Abbiamo un collegamento. In diretto da Hollywood. Antonella chi sarà? Antonella Elia. Ah, Antonella Elia che fa? La mia nuova cameria. Ma come? Antonella Elia deve lavorare con me a teatro quest'anno. Che? Antonella Elia quest'anno deve lavorare con me a teatro signora Sofia. Sì, sì. Assolutamente. Con me è Giacomo Rizzo. Ma guardi che lei è un'attrice. Giacomo Rizzo va a taroprire. No! Per quale motivo? Ma non lo pensare. Ma come? Ma Giacomo non la può mai sopportare che è una che fa la cameriera a casa mia. Ma signora, solitamente lei è un'attrice. Ma lavorare a te. Ah, scusa, non avevo capito. Vieni a fare la sarta di Coppa e Dio. No, però fa l'attrice. Ma che voglia? No, signora Sofia. Ma sta facendo una brutta figura, signora Sofia. Ma state dicendo proprio e la state dicendo grossa. No, no, è così. Antonella Elia fa l'attrice. Sì, sì, le canta, balla. Ma mi scusi, perché da lei che manzioni compi? Ma come? Sta tirando le camicie dei miei figli. Ah, è tirando le camicie. Ma chi li vuol tuost, tuost, che voi non avete idea. Cum indoste i vuol la ponella e lì ne indoste lì. I vuol le che? I vuol le che? No, no, no. I vuol le camicie. Ah, però anche tu ti ci metti adesso, su. Allora, signora, l'argomento di questa mattina sono le brutte figure, le figuracce. Esatto. Volevamo sapere se c'era di qualche star hollywoodiana, qualche aneddoto se lei... Guardate, io come tutti quanti sanno, la mia migliore amica si chiama Naomi Campbell. Eh, come no? Conosciamo la grande modella. Che più che migliore amica è una rossa che mi porta a Priesto da tanti anni. Ah, sì? Perché ha questo piccolo problemino di cui abbiamo parlato tante volte. È vero, possiamo ricordarlo. E siccome è posseduta dal demonio e il demonio si manifesta con aria... Ah, bene. ...bute o lente. No, abbiamo capito, anche senza sottolineare, grazie. Ecco, e che esce, diciamo così, da bocca, ma anche io spizzo li esce per questo. Va bene, sì. E quindi succede spesso che andiamo a fare shopping. Ah, shopping. Che andiamo a fare shopping, insieme, come lo sa, c'è in queste boutique qua di Beverly Hills, come lo sa, c'è tutta a 10 dollari, oppure... Ma che boutique sono queste cose? Ma com'è? A Beverly Hills tutti a 10 dollari? A Beverly Hills... A 50 centesimi, non c'è sta, cioè, ma... Ma com'è? La bellezza dell'America è questa. Ma scusi, è arrivata la crisi anche qui, quindi... No, ma sicuramente... E che tu in America, per esempio, che non stai, ci trovi Prada, Louis Vuitton... Vabbè, i grossi marchi, le griffo... Esattamente, e poi c'è a fianco tutto a 10 dollari. Tutto a 10 dollari, verifica. E' carina come cosa. E quindi, siccome, poi, notoriamente, Naomi Campbell è una reficagliosa... Scusa, abbiamo sentito una cosa in dialetto americano che non abbiamo compreso. Ah, perché io poi dimentico di parlare con l'Italia, ogni tanto meno queste... Meno, meno, meno... E' una... Insomma, c'ha un po' la mano come il canguro. Ah, ok. Un po' tirchi. E allora lei, piuttosto che andare nelle boutique, preferisce Zara, H&M... Vabbè, sì. Questi bellissimi negozi, un po' cheap. Diciamo che lei va anche sulla Raisin Street. Bravo. E come so, Pidas, ma ti sostiene a Beverly Hills. Passeggiando qualche volta. I love it. E purtroppo, quando prova le cose e vede i prezzi, quando il prezzo non le piace... Che succede? Si comincia a gonfiare la dena verde sul collo. No, no. Mi ricorda qualcosa. E' il segnale della presenza del demonio. E' amena. No, no, no. Mangiato, dico, ma amena... Questa è l'originale della Campbell. L'altro giorno l'ha menata talmente forte che ha sfunnato un camerino e non è... No, madonna. Non l'isaggeriamo, mamma. Tutto è gente con cui è vinda su una cazzina. Pensavano a un attacco dell'Isis. Eh, immagino. Invece erano i piri dei Naomi Campbell. Eh, vai. Che bel momento, ragazzi. Straordinario. Grazie. 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 Grazie.